Si parla in questi giorni della manovra, di una manovra da 28 miliardi e il governo si affretta a dire che sarà una manovra che non mette le mani nelle tasche dei cittadini, che saranno colpiti gli evasori, che saranno colpiti coloro che guadagnano tanto, i ricchi e noi diciamo innanzitutto una cosa che bisogna che il Presidente del Consiglio la smetta e il Ministro Tremonti con lui di continuare a dirci che va tutto bene e che l'Italia va meglio degli altri paesi, perché se fosse così vero non farebbero una manovra da 28 miliardi, quindi questo è il primo problema, riconosca il Presidente del Consiglio che la situazione italiana è grave e che il governo non ha fatto quello che doveva fare nei mesi passati. Questa manovra, Tremonti dice colpirà gli evasori, ma che credibilità ha un governo che ha fatto lo scudo fiscale, con il quale ha permesso a evasori fiscali, a mafiosi, a corruttori di riportare in Italia i soldi che avevano esportato all'estero per fare per le loro malefatte è una credibilità inesistente, hanno fatto scappare i buoi e ora dicono di voler colpire l'evasione. Sarà come sempre la loro foglia di fico, nel senso che mediaticamente faranno qualche piccolo provvedimento, ma in realtà non andranno a intaccare un fenomeno che loro hanno contribuito ad aiutare grazie a questo condono. Non dimentichiamo che Tremonti è l'uomo che ha fatto i condoni, 5-10 condoni fiscali anche nel precedente governo e li ha fatti così male che di fronte a una previsione di spesa di 11 miliardi ne ha incassati solo 6 e ci sono evasori che si sono autodenunciati, che hanno pagato una rata del condono, non hanno più pagato e hanno lasciato in sospeso 5 miliardi che lo Stato non è ancora riuscito a incassare. Allora noi diciamo che la manovra, noi Italia dei Valori sta lavorando a un pacchetto di interventi relativamente a questa manovra, alternativo a quello di governo che deve avere per forza al centro la questione dell'evasione fiscale, è uno scandalo nazionale, parliamo di qualcosa come 100 miliardi che tutti gli anni il fisco non incassa a causa dell'evasione e noi vogliamo colpirla, lo vogliamo fare con un mezzo semplice, il famoso redditometro di cui parla Tremonti, invece che essere utilizzato per controllare a posteriori se chi ha una Ferrari dichiara un reddito sufficiente rispetto a questo bene, parlo della Ferrari, ma parlo delle ville, parlo dei cavalli da corsa, parlo dei panfili e degli yacht che hanno queste persone, noi vogliamo che questo strumento sia usato in via preventiva, cioè uno è proprietario di determinati beni di lusso, immediatamente deve pagare tasse congrue rispetto ai beni che ha e non semplicemente per un controllo a posteriori e inoltre dovremo andare davvero a eliminare questa che è la vera piaga perché è veramente assurdo che si progettino come fa in realtà il governo interventi che andranno a colpire ancora una volta i cittadini, che andranno a colpire i pensionati, che andranno ad aumentare l'età pensionabile, che andranno a colpire i lavoratori e dopo di che si dica, si lascia in piedi un fenomeno come l'evasione fiscale che questo governo ha continuato, ha alimentato grazie anche al fatto che ha tolto una serie di strumenti introdotti dal governo Prodi e che servivano davvero ed erano efficaci per combattere l'evasione fiscale. Italia dei Valori la porrà al centro come elemento imprescindibile di questa manovra. Grazie a tutti.